Dalla tua iniziativa è nata questa giornata, quindi anche a Verbagna dice sì all'ambiente. Sì, 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 sì. Anche a Verbagna si è riuscita a portare questo evento alla fine della settimana per il clima. E quindi siamo qui in tantissimi, non mi aspettavo così tanta gente, siamo mille persone, che è un quarantesimo delle persone che ci sono a Berlino. Berlino, venerdì scorso, ci sono state 40.000 persone. Io penso che Berlino ha milioni e milioni di abitanti, noi siamo in 30.000 e si è riuscita a tirare su mille persone. Siamo tantissimi e sono felicissimo di questo evento. Il mondo degli adulti spesso non è stato gentile, diciamo ben propenso verso queste manifestazioni, in particolare verso Greta. Voi che cosa rispondete? Noi rispondiamo che non è un problema nostro, è un problema che loro ci stanno passando e serve anche la loro mano. Noi non abbiamo le capacità per cambiare, stiamo studiando, siamo ancora persone che si stanno formando. Abbiamo sicuramente bisogno della mano degli adulti e noi chiediamo alla mano degli adulti, ma dovrebbero essere gli adulti a inforzare noi, a inzigare noi, perché è un problema che ci stanno passando loro. Salvate il pianeta per un mondo migliore, perché oggi qui? Perché credo che il pianeta vada salvato. Io ho 15 anni e presumo che ho ancora avanti una vita e voglio viverla, vivere i miei sogni, io vado a scuola per avere un futuro, avere una carriera e voglio farlo, quindi voglio anche salvare il mio pianeta dove vivo. C'è questa cosa di andare su Marte, ok? Bello, però il pianeta è questo. Siete giovanissimi, ma oggi siete voluti essere qui, come mai? Per cambiare un po' il mondo, sì. Perché la Terra è nelle nostre mani e anche nelle vostre e se non miglioriamo la vita dei nostri figli, non andrà mai avanti. Non sei mai troppo piccoli per fare la differenza. A scuola ne avete parlato? Tanto, sì. Abbiamo avuto una maestra che ci ha sempre indirizzato nella via giusta, infatti anche la carta per disegnare usiamo quella già stampata che però non serve più. Noi ragazzi mostriamo migliorare il mondo e se ognuno adesso non fa la sua piccola parte, non sarà magari un domani per cui migliorare la Terra. L'economia l'ha inventata l'uomo, la Terra no!